Tentato omicidio a Taurianova, un giovane di 31 anni è stato ferito con un'arma da fuoco nella tarda serata di ieri proprio davanti al portone di casa sua. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo rientrando a casa, Sita in una traversa della prima circonvallazione del paese, ha trovato ad aspettarlo il suo e i suoi aguzzini che molto probabilmente non avevano intenzione di ucciderlo ma solo di intimidirlo. Il 31enne ha riportato una ferita ad un piede ed è stato ricoverato all'ospedale di Polistena, da dove verrà dimesso oggi stesso. Interrogato dalla polizia guidata dal commissario Antonio Gaetano e dal sostituto commissario Giuseppe Simone, subito giunta sul posto, non ha saputo fornire informazione sull'episodio. Le indagini sono ancora in corso.